Agricoltori e allevatori di Coldiretti sono scesi in campo questa mattina per chiedere una soluzione definitiva efficace per la frana di Castelpizzuto, un presidio alle porte del piccolo paese per denunciare ancora una volta le difficoltà e disagi che la comunità sta vivendo ormai da molti mesi a causa del dissesto idrogeologico che ha di fatto isolato il comune, i suoi abitanti e le imprese agricole dal resto del mondo. Con il passare delle settimane, spiega Coldiretti Molise, è cresciuto sempre più il grido di allarme degli allevatori e agricoltori che denunciano una situazione ormai insostenibile per le loro aziende ridotte allo stremo. Noi vorremmo veramente che da Castelpizzuto vi fosse un cambio di rotta da parte delle istituzioni, in primis della regione, protezione civile, cioè tutti coloro che hanno la potestà di poter intervenire. Non è possibile mantenere le imprese, le nostre imprese zootecniche con migliaia di capi in questa situazione. Il trasbordo delle merci, il trasbordo dell'alimentazione che avviene settimanalmente aumenta enormemente i costi e quindi costringerà, se durerà a lungo, le aziende a chiudere. Questo significa rompere, veramente rompere quella spirale positiva che si è creato in questo territorio, tra cui attività industriali, attività artigianali, attività agricole consentono ai cittadini di rimanere. Ecco, quindi questa veramente è una cellula importante che esiste in Molise e dobbiamo prenderla come esempio, perché altrimenti come si fa a bloccare lo spopolamento dei nostri territori? Tre problemi denunciati dagli allevatori di Castelpizzuto, l'impossibilità di conferire latte, rifornire punti vendita di carne e formaggi, consegnare i capi di bestiame già venduti. La bretella realizzata infatti, così come concepita, non risulta idonea soddisfare le esigenze delle aziende agricole e zootecniche di quel territorio, in quanto non è adatta al transito dei mezzi agricoli, le cui caratteristiche sono molto diverse dalle normali autovetture, essendo più grandi e pesanti. Siamo arrivati al limite, all'estremi proprio, non ce la facciamo più, non possiamo trasportare la forogera agli animali, non possiamo vendere più i nostri prodotti, non c'è più niente, siamo proprio finiti, siamo proprio all'estremi, non ce la facciamo più. Io sono un'allevatrice, cioè giovane, e voglio continuare questo lavoro, non mi voglio abbattere perché sinceramente si deve vedere che cosa si deve fare, stiamo proprio all'estremi, non ce la facciamo proprio più. E vogliamo che la strada sia giusta, perché là è pericolante, la bretella, come facciamo? O no? Especialmente quando fiocca, quando cosa sta la gelata, purtroppo che dobbiamo fare? Presente al presidio sulla provinciale 21, un nutrito gruppo di manifestanti, insieme al sindaco di Castelpizzuto, Carla Caranci, che ha ribadito con forza la necessità di intervenire con urgenza sulla frana. La comunità è in ginocchio, gli allevatori in modo particolare, poiché tra poco si vede di quanto si è ristretta chiaramente la carreggiata, per cui con i mezzi non si passerà, con i mezzi più grossi, né sulla frana e tanto meno sulla bretella.